La primavera Ma scusi, ma lei chi è? Fra te e Giorgio! La violenza! La violenza! La violenza! Sta per iniziare il gioco al buio! La violenza! 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 Dai vieni qua Bergamini, fai le tue supposizioni! E quando si accende si consuma? La lampadina! La lampadina! La lampadina! La lampadina! La lampadina! La violenza! Marefini! La violenza! Marefini! Marefini! Grazie a tutti.